Importante non dimenticare un'altra importante testimonianza, professoressa, oggi per quanto riguarda la lotta alla mafia, la lotta alle mafie. C'è questo monumento che sta girando il nostro paese e che per due giorni sarà qui al De Cecco di Pescara. E per noi è un grandissimo onore che grazie al Premio Nazionale Paolo Borsellino si possa iniziare una serie di eventi appunto legati alla legalità e al premio con una personalità straordinaria che è il generale Angelo Pellegrini. E' molto importante anche che si sia avuta l'opportunità di avere qui nel nostro istituto per due giorni un monumento straordinario chiamato Il Sorriso. E' una pietra della maiella su cui sono intagliati i volti di Falcone e Borsellino. E' un grande messaggio, un messaggio di forza, di resistenza, di determinazione, di voglia di lotta alle mafie ma anche alle logiche mafiose. E quindi di costruzione di un bel futuro più giusto per i nostri studenti. Generale, lei ha dedicato tutta la sua vita alla lotta alle mafie. Il messaggio da lanciare a questi ragazzi? Ragazzi, la mafia esiste, i mafiosti ancora ci sono, sta solamente a voi dare la speranza a coloro che hanno combattuto e a coloro che sono rimaste vittime della mafia che l'Italia può cambiare. Voi dovete dare la speranza in un futuro migliore. Voi dovete essere quelle gambe su cui camminano le idee di Falcone, di Borsellino e di chi ha fatto indagini. Anche le mie idee. Voi dovete essere voi. Io comincio ad essere un po' stanco, vi dico la verità. Anche se ho raggiunto una certa età, però continuo a combattere. Voi che siete giovanissimi combattete e vedrete che la mafia può essere sconfitta.